L'anno che verrà è investito dai timori, dalle speranze, dai pensieri, dai ragionamenti, dalle ipotesi, dalle convinzioni, dalle illusioni, dai dubbi e dalle certezze di miliardi di persone insieme, potremmo dire contemporaneamente e concentricamente sul tema centrale della salute individuale e di specie. Penso che ciascuno di noi abbia una parte di sé perennemente dedicata a immaginare come sarà, come andrà. Di questo vorrei parlare oggi della nostra immaginazione, però vorrei parlarne in questo modo, non tanto dicendo anche io la mia su come immagino che sarà l'anno che verrà o su come immagino che andranno le cose, vorrei piuttosto fare una specie di capriola immaginativa, vorrei provare a immaginare quale tipo di immaginazione ci sia richiesta per fronteggiare questa situazione nella sua portata planetaria e nella sua discontinuità con il passato recentissimo. vorrei provare a immaginare quali caratteristiche la nostra immaginazione dovrebbe avere per immaginare l'anno che verrà, inteso come metafora per dire il futuro, il nostro futuro, cioè propongo un esercizio di merateoresi. Quindi propongo di immaginare le caratteristiche di cui la nostra immaginazione dovrebbe dotarsi. Dunque la mia proposta è immaginiamo come vorremmo che fosse la nostra immaginazione per riuscire meglio a immaginare il nostro futuro. Vorrei suggerire di immaginare i miglioramenti e l'evoluzione della nostra immaginazione seguendo tre dorsali, cioè tre linee che spiccano nel nostro immaginario territorio dell'immaginazione, come se fossero tre catene montuose che la percorrono tutta, oppure al contrario tre faglie, tre faglie che la muovono tutta nelle sue profondità. Proviamo a immaginare allora queste tre dorsali, queste tre linee di evoluzione, dalle quali magari far emergere anche una prospettiva. La prima la chiamerei la dorsale associativa, la seconda la chiamerei la dorsale radicale e la terza la chiamerei la dorsale dei tempi liquidi. La dorsale associativa, una meravigliosa caratteristica dell'immaginazione umana, forse la sua caratteristica fondamentale, è quella di sapersi allontanare dalla realtà per dare vita ad altri mondi, sebbene come direbbe Leopardi questi siano mondi illusori. Ma è proprio nell'allontananza della realtà e nell'illusione che la nostra altra facoltà meravigliosa, vale a dire la ragione, trova materiale da pensare, da erodere, anche da demolire e da distruggere. Tuttavia, senza questi mondi da affrontare e persino da demolire, la nostra stessa ragione finirebbe per trovarsi inaridita, inutile, per così dire sterile e a lungo andare potrebbe persino spegnersi. In questo movimento, che può apparire paradossale, la funzione dell'immaginazione è fondamentale non solo per se stessa, ma anche per l'altra facoltà, cioè per la ragione. Chiameremo questa caratteristica dell'immaginazione facoltà, capacità dissociativa, cioè la capacità di espandersi e di sganciarsi dal mondo reale per creare versioni diverse e molteplici di altri mondi. Proprio questa capacità dissociativa io immagino che sarebbe importantissimo affiancare una capacità associativa, complementare, che possa completarla e anche farla evolvere. Proviamo a immaginare questa capacità. Io immagino la capacità associativa dell'immaginazione come una capacità di portare dentro il mondo reale i frutti partoriti altrove dalla sua capacità dissociativa, applicando una forza centripede alle proprie invenzioni, una forza di gravità che la riporti sullo scabro territorio del reale. Immagino un movimento doppio, quindi, dell'immaginazione, che prima si allontana dalla realtà e che poi vi fa ritorno come un pescatore che lancia dalla sua vuota imbarcazione delle reti e poi la richiama indietro riempiendo la barca di pesci, quindi dal vuoto al pieno. La dorsale associativa la penserei così, come un miglioramento della nostra immaginazione che si autodota della capacità, dopo essersi andata lontano, 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 di tornare indietro, carica di contenuti con cui arricchire la realtà. La dorsale radicale. Noi parliamo di immaginazione al singolare per riferirci a una facoltà umana, ma quando poi andiamo a vedere come tale facoltà si manifesti nella nostra vita di specie, vediamo che i suoi frutti crescono su tanti rami diversissimi. Arte, sport, letteratura, tecnologia, musica, danza, chimica, scienza, medicina, finanza, informatica, ogni aspetto dell'attività umana e non solo di quella culturale in senso lato, presenta i frutti della cosiddetta immaginazione. I rami di cui parliamo, metaforicamente, si sono via via nel tempo sempre più ramificati appunto, cioè le nostre aree di intervento nel mondo si sono sempre più specializzate e all'interno stesso di ciascuna disciplina le ramificazioni si sono moltiplicate e la nostra distanza dal cosiddetto uomo leonardesco, cioè la figura di un uomo in grado di accelere simultaneamente tanto nell'ingegneria quanto nella pittura, tanto nella musica quanto nell'urbanistica eccetera, appare ormai incolmabile. Abbiamo dovuto diversificarci, abbiamo dovuto specializzarci, diventare sempre più sottili per penetrare dentro la realtà sempre più a fondo. In ogni ambito la funzione dell'immaginazione si fa più specifica e immaginare per esempio nuovi servizi finanziari non è immaginare nuove applicazioni informatiche e non è immaginare nuove particelle subatomiche né nuovi romanzi polizieschi e così via. Il prezzo da pagare all'estrema nostra specializzazione è una parcellizzazione crescente del sapere e per quel che riguarda noi adesso una parcellizzazione crescente dell'immaginazione. Possiamo chiamare capacità floreale questo aspetto della nostra immaginazione che riesce a far affiorire e a fruttificare al culmine di ramificazioni sempre più sottili e sempre più lontane fra di loro, come le estremità della chioma di un albero gigantesco che continua a crescere. Diciamo che immaginata così questa caratteristica della nostra immaginazione non sembra avere nulla di incompleto da evolvere, ma tutti questi fiori, tutti questi frutti che fioriscono e maturano negli estremi sono sempre più lontani gli uni dagli altri. Pertanto proprio a questa capacità floreale della nostra immaginazione io immagino che sarebbe importantissimo affiancare una capacità radicale, complementare, che possa completarle e farle evolvere. Proviamo a immaginare questa capacità, la capacità radicale dell'immaginazione. Secondo me dovrebbe ristabilire un nesso vitale che rischia così come siamo ora di perdersi, ma non si tratta e non può trattarsi di un nesso che metta insieme, che raduni insieme i frutti, i fiori della nostra metafora arborea, quella che abbiamo visto prima, dei frutti che si allontanano sempre di più, non può metterli insieme perché sarebbe una marmellata sterile, impasterebbe in qualcosa che poi è amorfo. Io immagino al contrario che nella dorsale radicale trovi posto un movimento che da ciascun fiore, da ciascun frutto lontano nella nostra arborescenza torni giù, ritorni verso il tronco, che immagini questo movimento verso il tronco e verso il tronco di questo albero e non solo verso il tronco ma anche verso le radici di questo albero. Un movimento che riconosca e che renda effettivamente riconoscibile l'origine comune di tutte le nostre immaginazioni. Un movimento che sappia ritrovare, ritornare all'oscuro terreno da dove tutto nasce, al terreno, le zone comuni di una materia opaca trasformata da noi incessantemente in nutrimento. La dorsale radicale, secondo me, è la direzione seguendo la quale dotiamo la nostra immaginazione floreale. C'è un movimento ritroso che la completa e la fa evolvere. Se ciascuna delle nostre specializzazioni deve svilupparsi in una sua propria direzione e quindi distanziarsi dalle altre, la dorsale radicale deve togliere l'angoscia della solitudine ai fiori e ai frutti delle immaginazioni settoriali e specialistiche, riportando ciascuna in un quadro più complesso e ricco nel quale l'unità fra tutte è sempre già garantita dalle radici comune e non via via sempre più perduta. Questa capacità radicale di cui vorremmo dotare la nostra immaginazione per renderla più in grado di immaginare l'anno che verrà, mi rendo conto che non è semplice immaginarla. Penso tuttavia che sia importante farlo perché il contromovimento radicale potrebbe abbassare il livello di angoscia della solitudine di ogni prodotto dell'immaginazione veramente floreale. La dorsale dei tempi liquidi. Una caratteristica della nostra immaginazione è quella di immaginare il futuro. La dimostrazione è che oggi siamo qui a immaginare l'anno che verrà. Questa caratteristica è uno dei presupposti su cui si fonda anche la caratteristica dissociativa che vedevamo prima di cui abbiamo parlato. Quale mondo che non sia questo mondo possiamo immaginare? Beh in primo luogo il mondo che sarà non c'è ma possiamo immaginarlo. Possiamo immaginarlo, probabilmente dobbiamo immaginarlo proprio perché non c'è. Io chiamerei questa capacità dell'immaginazione la dorsale dei tempi solidi. Come immagine possiamo pensarla come il movimento di costruzione che di pietra su pietra eriga una torre. Ogni pietra presente diventa la pietra passata su cui si fonda la pietra futura che così diventa presente e poi di nuovo a sua volta passata e così via. Nella dorsale dei tempi solidi la nostra immaginazione è costruttiva, è indirizzata, è addizionale e potremmo vederla anche come progressiva. In questo senso credo che sia proprio la dorsale dei tempi solidi di necessitare profondamente di un completamento che ne sia anche l'evoluzione e chiamerei questo completamento e questa evoluzione la dorsale dei tempi liquidi lungo la quale penso dovremmo cominciare a immaginare la nostra immaginazione. Una dorsale che la permetta di porsi nei confronti dell'anno che verrà con più robustezza, con più forza ma al tempo stesso con più agilità. Proprio la nostra immaginazione ha immaginato che il tempo non sia poi così semplicemente quella freccia lineare che dal passato va verso il futuro infilzando il presente come un pollo allo spiedo. È proprio la nostra immaginazione di aver nutrito le più sofisticate versioni di tempi non lineari sia nelle scienze sia nelle arti sia soprattutto nella letteratura. È necessario qui che l'immaginazione faccia la capriola forse più importante di tutti, quella di immaginarsi svincolata dalla metafora del tempo lineare, di immaginarsi libera non solo di immaginare il futuro ma di immaginare il passato. Può sembrare un paradosso, forse lo è, forse deve esserlo, immaginare il passato. Pensiamoci su, immaginiamo come si possa fare e poi non solo immaginare il passato, immaginare anche il presente. Sembra addirittura una frase senza significato. Bene, e proprio per questo è richiesta un'immaginazione che dia significato a una frase così bislacca, immaginare il presente. Questo è il senso della dorsale dei tempi liquidi, immaginarsi il movimento della nostra stessa immaginazione che affianchi, completi e faccia evolvere l'immaginazione dei tempi solidi, dalla quale peraltro è il prodotto più raffinato. È importante secondo me vedere che la dorsale dei tempi liquidi e quella dei tempi solidi non sono in contrapposizione. È importante vedere come la prima nasca dalla seconda, un po' come la meccanica quantistica nasce da quella classica, ma in un movimento complessivo enormemente più ricco e maestoso. Se è oggi che possiamo immaginare una dorsale dei tempi liquidi per la cosiddetta immaginazione, lo dobbiamo a secoli di immaginazioni che si sono stratificate una sull'altra in un movimento di tempi solidi. La dorsale dei tempi liquidi potrebbe aiutare l'immaginazione a immaginare un'immaginazione che sfida il futuro, non che semplicemente ne raccolga le sfide. Immaginiamo di dotarci di un'immaginazione che oltre a immaginare il futuro immagini il passato e immagini il presente e così facendo prenda di petto anche l'inearità del tempo stesso, che si trovi a suo agio nei paradossi temporali e che da qui parte a immaginare anche spazi diversi, non solo tempi diversi, finora inimmaginabili. Un'immaginazione che colonizzi l'immaginabile, che ne sposti gli equilibri con quello che finora è stato già immaginato. In conclusione, dotiamoci di questa immaginazione voluta. Non aspettiamo passivamente che l'anno che verrà, ci lanci sfide a cui reagire. Sfidiamolo noi per primi, immaginiamolo, immaginando con lui anche tutti gli anni passati, immaginando con loro anche l'anno presente, immaginiamo che la nostra stessa immaginazione sia evoluta, immaginiamola lungo queste tre dorsali che abbiamo detto, immaginiamola con un lungo innumerevole altre dorsali, d'altra parte ogni cosa può essere immaginata. Immaginiamola su altre dorsali di cui anche non sappiamo nulla e proprio perché non ne sappiamo nulla possiamo e forse dobbiamo immaginarcele. Ma comunque i doppi movimenti delle tre dorsali che abbiamo visto adesso sono, secondo me, la dorsale associativa, abbiamo detto, che è completa ed evolve la capacità dissociativa, la dorsale radicale che è completa ed evolve la capacità floreale e la dorsale dei tempi liquidi che ne è completa ed evolve la capacità dei cosiddetti tempi solidi. Questa immaginazione mi sembra che si arricchisca in maniera adeguata per immaginare appunto l'anno che verrà, inteso come il primo e prossimo pezzo di futuro con cui avremo a che fare. Questa immaginazione dunque ha tre movimenti che si aggiungono a quelli soliti completandoli. Li completano, mi sembra, rendendo l'immaginazione non una facoltà più astratta o complicata, ma al contrario rendendola più concreta, direi, fisica, addirittura corporale. Sono movimenti di diastole che completa la sistole, di ispirazione che completa l'espirazione, di sonno e anche di sogno che completa la veglia. Ma l'immagino pulsare questa immaginazione, la vedo vivere dentro un ritmo vibrante e in movimento, ma l'immagino come un luogo multidimensionale e in parte misterioso, dove accadono eventi che non sappiamo descrivere ancora bene. Non vorrei però sottrarmi alla consegna di immaginare l'anno che verrà, non vorrei che questo gioco di immaginare e l'immaginazione lasciasse totalmente priva di contenuti l'immaginazione del tempo che sta arrivando. Allora vorrei semplicemente dire quali, secondo me, sono tre fra innumerevoli temi o argomenti o capitoli, chiamiamoli come vogliamo, su cui dovremo sicuramente fare un importante, notevole lavoro immaginativo, qualunque sarà l'immaginazione di cui disporremo. La mia è una piccolissima lista del tutto personale. Due sono il potere e il denaro. E il terzo punto, che non riguarda certo solo l'anno che verrà e gli anni che verranno, ma soprattutto forse tutti gli anni e tutta la vita, il terzo punto è la libertà. Grazie. 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 Grazie.